Nicola Molteni, la Lega Nord chiede basta, chiede lo stop dell'operazione Mare Nostrum con una mozione alla Camera dei Deputati. Sì, la Lega ha contestato e continua a contestare duramente questa operazione che non è un'operazione di controllo delle coste ma è una vera e propria operazione di accoglienza di presunti profughi, anzi di immigrati clandestini. La Lega chiede l'immediata revoca dell'operazione Mare Nostrum, detta anche traghetti per l'Italia col biglietto di sono andato pagata dagli italiani per migliaia di immigrati clandestini e non semplicemente un tagliando come invece ha detto ieri il Presidente del Consiglio Renzi. L'operazione Mare Nostrum è costata sino ad oggi più di 300 mila euro al giorno, più di 10 milioni di euro al mese. È un'operazione con la quale sono stati portati sul nostro territorio dal 1 gennaio 2013 quasi 80 mila immigrati clandestini. È un regalo agli scafisti ed è un incentivo all'immigrazione clandestina. Ad ogni clandestino viene dato 1.300 euro al mese, molto di più di quanto guadagna un agente di polizia, molto di più di quanto intascheranno probabilmente gli italiani con i famosi 80 euro del Presidente Renzi. Molto di più di quanto percepiscono i 7 milioni di pensionati italiani che percepiscono solo 1.000 euro al mese. È una vergogna, è un'operazione che va immediatamente bloccata e bisogna ripristinare gli strumenti utilizzati all'epoca dal Ministro Maroni. Pattugliamenti, controlli, respingimenti ed espulsioni. Grazie. Grazie.